... ... adesso è lo spot inside davanti con Mensa in seconda posizione poi la tagline è anche cercato questo è come quattro squadre quando ci passano la scuola tre e dici giri è lanciata Giulia Marelli per la tagline e poi Dio Mario Giulietto e Marina Palazza per la Mensa e spot inside non è male questo campione adesso sono sempre la tagline poi Mensa poi spot inside che è piuttosto che chiudo il grab questa è una la tagline Mensa la tagline e spot inside la tagline non si è cammino a seconda e terza sono il ritmo è alto ma non sono ancora tutta come si dice in a gergo ma è un tantissimo il cambio più più rido possibile tra le tasche che è una tagline è un'equilettere la tagline che è Giulia Marelli è un'equilettore della tagline che è un'equilettore di pagamento con spot inside che lo strano riportarsi a tanta posizione questa è la prima attivazione la prima attivazione quando siamo almeno a 9 messa questo spot inside una bella situazione da dietro intanto e l'unico e l'unico è tantissimo per il video dell'ultima altro cambio almeno 8 messa la schiena e l'unico l'azione della vita di portarsi con la tenda in all'esterno la curva la ragazza della terapia la terapia la terapia un cambio tutto tutto vengono là una squadra si è rimasta in campo e adesso è una squadra molto lungo la ragazza dello spot inside all'esterno all'esterno spot inside in questo modo l'esterno la terapia sotto la terapia la terapia e adesso è importantissima la terapia per la terapia per una fiamma che ha pregettato quando siamo al momento siamo al momento per l'ultimo cambio che ha Ermangolo e la Fiamma Maria e la Fiamma poi l'ultimo passaggio per una fiamma per una fiamma ditemolo vi fermiamo per un porto per una fiamma per una fiamma e la Fiamma per un giocano un tiro un tiro un tiro Grazie a tutti. Grazie a tutti.